Ecco la stazione di Nola, doveva essere chiusa dal primo maggio al mese di giugno-luggio per rimornamento della stazione e delle altre stazioni. Tutto è rinviato, si parla adesso di rinvio al mese di giugno per questi lavori. Quindi la tratta Napoli-Baiano funzionerà regolarmente nel periodo suddetto. Quindi un altro disagio per gli utenti. La stazione dei Pullman è qui vicino e saranno sostituiti i treni dai Pullman con gli stessi orari. Speriamo che i cittadini non siano gravati da ulteriori disagi. È una tratta antica, molto importante per il Nolano. Una tratta che va fino a Baiano.